musica 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 allora bella ragazzi avete appena provato quello che andremo a provare noi in questo FAQ perchè praticamente lui avrà le cuffie e noi faremo delle domande e lui non capirà un cazzo non sta capendo neanche adesso quindi il FAQ leggendo il labiale eh vabbè io metto la cuffia spacca con questa canzone come si chiama? wolf una domanda che ci viene il pubblico è se meglio scandisci bene le parole perchè se non posso capire sei un caracazzi sei un caracazzi una carta io sei un caracazzi sei una carta è un frutto un frutto un frutto un frutto un frutto un frutto ero guarda ca儿 e' meglio e' meglio una nera pecora o una pecora nera un uovo nella pecora una fecora della carta il primo ha il secondo no uno una nera pecora o una pecora nera e' meglio un uovo nella pecora o una pecora nella carta quale è meglio un uovo nella pecora che cazzo la prima o la seconda la prima o la seconda a seconda quindi una pecora nera una pecora nera un culo... ah... no che cazzo ne so eh si eh è ricchiore mi piace vero vero no come no, è appena detto è vero che mi sono bombato tua madre no non ti sei trombato mia madre vaffanculo vabbè questa non la mette però perchè non si è appena ricordato che tua madre vede il video perchè se mia madre vede il video ho soldato in tutto vai sto idiota perché ce l'hai insieme andata a Praga se manco ti fa il regalo ma che cazzo per chi ti fa il regalo ma cosa ho detto ma ce l'hai insieme andata a Praga chiudi eh ho capito ma portavo di rock è una merda eh no, che faccia se sei andata a Praga che poi fai l'interesse tipo il buddy bill ma tanto lo sappiamo che ti photoshop i tuoi muscoli non puoi parlare così veloce vero adesso ha detto lo sappiamo che ti photoshop le tue foto ti photoshop le tue foto non mi ha detto e qual'altro perchè sei andata a Praga perchè sei andata a Praga sei andata a Praga a Paa al bagno al pub 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 è mezz'ora per capirlo mezz'ora per capire non sento il calcolo ma non si sa come parli ma come parlo ma come parlo in merda cioè scambici le parole ricuttaro lontano che? ricuttaro lontano ricuttaro 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 dei galantisi inoltre della canzone you anche gli stiliang hanno fatto un remix gli stiliang per chi non lo sapesse sono due canadesi che vengono in canada e che hanno fatto due reni sulla size level ma quanto parla? i fucking they're fresh they're a fucking brand and i think yes i be because i hear because i'm from i'm be i fuck your mom i fuck your sister i fuck your dog let her crush 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 la tua? no come cos'è che penso? ce l'ho la firetta ok ci vuoi falsere quante figure gli hai occupato la bambina ai calciatori a mare e la uscia dai dai quante? quante? ma che messa da brutti no no hai parecchi parecchi nongonfance non faiワen c'è fai c'è fai giardino a te pareti buon numero stai parlato di facebook c'era una vita che guarda in maniera salva livelli del numero dai numero a rai di 4 debba dei mille ma pure di più not di più occhi in una nuova con un pezzo metà come il valore io che palle mani fare che mi è stati di più in essere servite le vani che se vi un po' non può fare un po' questo caso ciao la cosa lasciate asciò per l'asso vede la sua sede da parte si dice quanti figuri a quanti figuri di rubato di calciatori il mio credo che lo scritto del cagliari rsd c'è un po' meglio col cazzo ho detto allora rsd allora si chiudere lo hai detto ho detto allora è lo scritto del cagliari giusto io gli darei 8 rs8 c'è la testa ma perchè c'è il tuo negozio che c'è la testa ma è una cosa che vuoi dare a testa e di voto sui tira da sede ma così così si può tutti uguali 8 8 e basta e basta hai fatto le cose che ne vogliono sapere di santi ne volevi voli fatto un bravo giocatori ha troppo ma che vuoi fare chi ha vido di ma che stai a dire di qualsiasi lo so che io ho chiesto non è giusto non è vero lui lavora per comprare cose e tu gli erupi c'è ma diciamo sul serio qua oltre a rubare poi fa anche l'ignorante che dice oltre basta nel senso che c'è non solo da rubare 8 dice pure e basta nel senso che ehm se perchè ti non fai mai la domanda fare cosa ci sta comunque come cosa no a me non mi piace david guetta non è vero, lascia perdere, ti piace più Justin Bieber giusto? più Gemini Ice si no Justin Bieber si per Martin Garrix no Justin Bieber lo sentimo sempre a te ti piace una cifra lo metti sempre in macchina ah lui si è la tua anni ma lui adesso è la One Direction ah no quando l'ho fatto il tour perchè prima era Madman e ora adesso pure Gemini Ice Justin Bieber prima con sui sono una bomba a One Direction è una bomba forte la bomba in faccia la bomba in faccia dai famosè un bomba dai vecchie scuole io scuole io mamma mia comunque Giassini Bieber te lo senti? ah beh quello si si no perchè no perchè no ma se lo sentimo o metti sempre in macchina non per cazzo che mi hai letto in macchina in macchina in macchina capito? le scuole le scuole Justin Bieber li faccio io no ogni tanto li faccio però non sempre si o no a scuole Justin Bieber si o no a scuole Justin Bieber? si o no a scuole Justin Bieber? tu no sti cazzi so cazzi due se ne fai mesi ti devo dire ma tu ascolti io si ogni tanto li faccio no non si vede ma comunque è vero che dal prossimo mese sarà soltanto io a farevi sul canale perchè non non ci sei più giusto è vero che dal prossimo mese no non cazzo te urli non urli è vero che dal prossimo non urli è vero che dal prossimo mese sono soltanto io su grananzi perchè te non ci sarai più vero? sei un figlio di grananzi sei un figlio di grananzi sei un figlio di grananzi è vero che lo vengono no di col canale sarà soltanto io cornuto io youtube cornuto cornuto tu ripeti no a fine della canzone a colazione aspera a quello la serie di cosi a colazione a colazione tu sei un cornuto eh si ma qualche cedro al colubbio sei un cornuto tu a colazione sei un cornuto io a colazione e cosi ciò con il cornuto e non sei cornuto senza latte con latte quindi si sei cornuto no senza latte si si senza latte si però senza latte però con il cornuto tu sei cornuto non so cornuto ciò con il cornuto senza latte col cornuto si mi senti mi senti dred si ok a posto the rj klaus you're saying you're saying market purchase from borsalino has been percentualized zero fifty seven euro stare legge qualcosa delle istruzioni dei giochi has been debited from your steam wallet ok ok si quando quindi 2 è romco eh si è romco eh si è romco ah ah ma quindi pure cioè pure subito io solo ce l'ho ma è ronco te sei stupido te sei stupido ma è ronco è ronco è ronco lui si lui sicuramente ma che c'entra tu è ronco che si allora cazzo e fa chiudere ma è finito abbassa con la voce da gallina oh queste gonne basta allora fa chiudere ma è finito e questa cosa è finita manca quanto stavo urlà eh madonna porca droga se rimentengo a questa causa comunque mi piace noi ci vediamo al prossimo video vabbè ma è ronco si basta ciao ciao c會 ronco ciao ciao